Chiesa di Santa Maria Assunta Un progetto dell'architetto Michela Costruita nel 1729 da due impresari biellesi, mosso Gerola Modessefari Antonio di Graglia, secondo il disegno dell'architetto Michela D'Aliè, è terminata nel 1743. La chiesa, compianta a croce greca, venne allungata aggiungendo il coro nell'anno 1845, su richiesta del prevosto Ravaschietto. L'architetto Costanzo Michela, 1689-1754, forse il più grande architetto canavesano, fu dapprima assistente di Juvarra Stupinigi, poi aderente al linguaggio di Guarino Guarini attraverso la mediazione di Bernardo Vittone. Tra i suoi lavori, tutti in canavese, vi è anche il progetto del castello di Barone Canavese. Il parro, unitamente alla comunità parrocchiale, dedica il restauro della facciata a Monsignor Giovanni Battista De Filippi, prelato auditore della ruota romana, nel suo cinquantesimo di ordinazione sacerdotale, 1964-2014. L'edificio, alla destra della chiesa, ha ospitato fino agli anni Sessanta l'asilo, ora è utilizzato dal comune e dalle associazioni del paese. Monsignor Giovanni Battista Grazie a tutti.